No, effetti ancora diretti non ce ne sono. C'è molta preoccupazione obiettivamente perché l'aumento dei prezzi si fa sentire anche nei supermercati, nei negozi, quindi è evidente che c'è questa fiammata inflazionistica che è preoccupante anche se secondo me va analizzata in maniera un po' più profonda. Nel senso che c'è una componente di questa inflazione che secondo noi è temporanea, congiunturale, che quindi nei prossimi mesi dovrebbe sgonfiarsi, penso all'aumento del prezzo delle materie prime e praticamente della mancanza dei microchip, dei semiconduttori, quindi dovuto in parte alla crisi Covid che abbiamo subito l'anno scorso. Poi c'è la parte più significativa dove ci sono maggiori incognite su come affrontarla, nel senso che questa inflazione in parte è dovuta anche alle misure espansive che sono state adottate dai governi in Europa, giustamente per far fronte alla situazione di crisi economica che si è creata con la pandemia. Non solo, ma la BCE ha iniettato moltissima liquidità, pensi che ancora adesso, nulla a che vedere ovviamente con gli 80 miliardi al mese di acquisti di titoli di Stato che faceva l'anno scorso, ma ancora adesso sono 15 miliardi al mese che la BCE acquista titoli pubblici nei singoli paesi europei per iniettare liquidità, per agevolare la situazione di questi paesi. Quindi è evidente che questo secondo noi è il problema, cioè le politiche espansive possiamo eliminarle, no assolutamente perché siamo ancora in una fase di difficoltà, però credo che gradualmente le dovremo in qualche modo diminuire, altrimenti c'è il rischio che sostanzialmente la BCE in qualche modo debba intervenire, qualche segnale c'è già da parte della Fed, cioè della Banca Centrale Americana, che ha deciso oggi sui giornali di ridurre progressivamente l'acquisto di titoli pubblici e quindi se anche la BCE si alineerà su questo versante è chiaro che si arriverà molto probabilmente a un aumento dei tassi di interesse, che per noi sarebbe praticamente una iattura perché siamo un paese che ha un demito fin da 100 giudici. E anche in televisione italiana, Christine Lagarde ha rassicurato su questo aspetto. La Lagarde dice che probabilmente la BCE sostiene che questa sia praticamente una fiammata temporanea e quindi nei prossimi mesi la situazione potrebbe rientrare, ma è altrettanto vero che se la Fed dovesse aumentare i tassi di interesse, molto probabilmente anche la BCE entro l'anno prossimo dovrebbe in qualche modo allinearsi. Cioè c'è comunque questa interdipendenza, Nicola Rossi.